Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo nuovo video con Demon Frack Ok ragazzi, oggi giocheremo a Airstone La nuova avventura di Karazhan La continuiamo E' uscita la nuova settimana Il curatore sta liberando le creature, dobbiamo aggiustarlo Ok, il curatore Zero di mana, il potere eroe passivo, il tuo eroe ha provocazione Proviamo ad andare Scegliamo il mago, va Curatore Non si toccano le esposizioni, l'hai voluto tu Ok, per me va bene così le carte Vediamo un po' Il potere eroe Che è quello Ok Finito Spaginiamo 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 Mi piace tanto spaginare Ok Quello mi vuole fottere Io devo provare sta cosa dalla provocazione Devo capire che cos'è 27 Non ha fatto granché Quella provocazione Quindi Vediamo subito In questo lancio a magia Go go Pesca una carta Se muore Perché non posso farlo Non posso farlo Che dici che lo puoi farlo Ok, buono Buono Come sempre abbiamo Molta molta fortuna nel giocare Evoca un murloc casuale Bella quella carta Dovrete fermarlo prima che sguinzagli tutte le creature Dici Ok, ricominciamo Allora Questo Usiamo Pesca due carte Ok Danno su di lui Se Danno si può chiamare Si prega di rispettare Tutti i protocolli Della galleria Se no Che succede Alla fine Tutto un attacco Un attacco A un altro servitore Casuale E lì ci siamo Facendo così Dovrei Eliminargli Tutti Tutti Cioè Sono forzato ad attaccare lui Finito Non posso attaccare I nemici Colpite forte Velocemente E' un problema Manca tanto Allora C'è Una leggera lagga Oggi Gli ospiti Devono rimanere All'interno Del serraglio Se no Che succede E io Non ne voglio Ok A meno che Non caccia Un'assa Nella manica Dovremmo aver vinto Vediamo 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 Quattro E sette Undici Quindici Dovrei aver finito Palla di fuoco Drago volante Va bene Vediamo La ricompensa Ok ragazzi Per oggi è tutto Se il video vi è piaciuto Lasciatemi un like Vi raccomando Commentate sempre Come sempre I video E Noi ci vediamo Al prossimo video Con il Knock to more Il drago E' fuggito Riportalo Nella segrete Quindi Ragazzi Che dire Ci vediamo Alla prossima Ciao Alla prossima Grazie per la visione